poterlo dichiarare un giocatore dell'Iventus ma insomma possiamo considerarlo praticamente un eventino. Fonio per Matteo Petrucci, come sarà composto l'attacco della Lazio e la panchina sarà giusta? E la panchina scusa Valentina sarà? Sarà giusta, avremo una panchina giusta scrive il Fonio. A panchina giusta immagino inteso come Petkovic. A livello di cambi diciamo che... Sì sì ho capito Valentina il riferimento, ma sulla panchina al momento è lunga perché ci sono davvero tanti giocatori soprattutto in attacco, manca sicuramente qualcosa in difesa, proprio lì si sta concentrando la Lazio sul mercato. Per quello che riguarda l'attacco dipenderà molto dal modulo che deciderà adottare Petkovic e probabilmente giocherà con un'unica punta e quindi l'unica punta è sicuramente Miroslav Kroos e poi ci sono tutti gli altri, Rocchi, Kozak, Flockari che però difficilmente insomma rimarrà la Lazio e poi c'è sempre Mauro Salate. Valentina è arrivato anche Gianluca Di Marzio, forse ci sono novità.